Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Niki Animas Ragazzi, oggi siamo qua per parlare dei serpenti I serpenti Di che serpenti sto parlando? Sto parlando dei serpenti, quelli ovviamente addomesticabili e dove vengono acquistati nei negozi di animali non di quelli, diciamo, bice, quelli selvatici perché quelli è giusto che vivono in libertà I serpenti I serpenti solitamente non vengono dati le giuste responsabilità al serpente quindi oggi andrò ad approfondire molto bene su di che davvero hanno bisogno i serpenti Partiamo subito Allora, intanto partiamo dal fatto che i serpenti hanno bisogno di un terrario esotico ma di dimensioni molto, molto grosse chiamata anche teca perché comunque diciamo che rimane sempre un terrario però per il serpente poi esiste la teca che cos'è la differenza? Il terrario è un ambiente sempre esotico che va a fare poi umidità però diciamo che il terrario viene più usato per altri animali esotici mentre la teca è più specificata per i serpenti quindi consiglio una bella teca Una teca cosa è conveniente? La teca è conveniente perché ha un vetro molto trasparente che vedi molto molto bene il tuo serpente all'interno ma la teca tende ad essere dimensioni un po' piccole quindi ragazzi dovete comprarne una di teca molto ma molto ma molto grossa e ovviamente una teca molto grossa andrà a costarvi su e anche 350 però sarà una teca di dimensioni molto molto grosse e soprattutto che il vostro serpente andrà a stare bene quindi va comprata una teca di dimensioni grosse Secondo argomento Il serpente cosa mangia? Allora il serpente in realtà non è uno di quei rettili che va a mangiare molto perché loro riescono a stare anche mesi a digiuno cioè tipo un mese a digiuno riescono a stare comunque riescono a stare anche dei giorni a digiuno ma per fare che il vostro serpente non rimanga a digiuno consiglio di dargli un animale vivo lo so ragazzi purtroppo i serpenti mangiano carne bianca del tipo topi e conigli voi gli andrete a dare un topo o un coniglio dipende dalle dimensioni che sarà il vostro serpente e gliene darete magari un coniglio leggermente un po' più grosso in modo che lui anche se sta 2-3-4 giorni a digiuno comunque ha mangiato perché i serpenti tendono poi ad andare a stare a digiuno perché sono animali che poi hanno dei periodi che non vogliono più mangiare ma non è che loro stanno male perché non si sentono più di mangiare perché comunque se ci pensate grazie ai loro acidi fortissimi loro riescono a ingoiare un coniglio intero o un topo intero per esempio il pitone prendiamo di esempio il pitone il pitone dobbiamo cercare di stare molto attenti perché il pitone quando noi gli diamo da mangiare se gli diamo già per esempio un topolino piccolo poi lui starà magari un mese a digiuno e voi giustamente penserete avrà fame perché comunque lui intanto non mangerà lo stesso però avrà fame perché io ho dato un topino piccolo invece nel periodo quello che vedete che ha fame perché verrà nei vetri a cercare a strisciare nei vetri appunto per cercare mangiare allora voi a quel punto lì aprite la teca e gli date un topo ma glielo date un po' più grosso o un coniglio un po' più grosso in modo che lui anche se sta un periodo a digiuno comunque avrà mangiato del giorno prima un bel pasto, un bel nutriente l'ultima cosa ed è quella più interessante è quella i serpenti sono addomesticabili i serpenti sì sono addomesticabili a volte spesso fanno paura l'idea di addomesticare un serpente e di metterselo nella mano ma in realtà assolutamente no perché comunque i serpenti loro sono animali che una volta che hanno capito che te non sei un pericolo loro si faranno tranquillamente accarezzare ovviamente prendeteli da piccoli perché da piccoli sono più addomesticabili come addomesticarli? allora quando sono piccoli li dovete cominciare a prendere ovviamente ma dovete soprattutto tenere le mani aperte in questo modo in modo che il vostro serpente in questo caso facciamo pitone vi andrà a fare questo movimento nelle vostre mani ed è come fare una carezza come fargli una carezza è per lui perché il vostro serpente facendo così vi andrà a scontrare le dita in modo molto delicato ed è come gli fareste una carezza al serpente questo è il modo per accarezzare i serpenti poi se i serpenti li potete mettere anche nella mano da tutte le parti ma comunque consiglio di tenerli in questo modo qua perché comunque è sempre un animale che potrebbe fare un salto e puntarti la faccia e non fatelo in stanze dove ci sono altri animali quando lo liberate se lo volete liberare perché sennò vi potrebbe andare a mangiare i vostri animaletti del tipo se abbiamo una gabbia di cricetti almeno che non sia fatta apposta per non andare che il serpente ci entri il serpente ha gli odori molto sviluppati quindi sentirà il cricetto poi capirà che è una preda e quindi ve la andrà a ammazzare quindi non liberatelo in stanze che ci sono altri animali e soprattutto non fatelo se avete anche gatti di questo tipo perché comunque potrebbe essere un rischio o per il serpente o per il gatto perché comunque il serpente è tosto come animale è anche pericoloso in certi lati quindi ragazzi mi raccomando almeno che non avete una gabbia per cricetti fatta apposta che i serpenti non ci vadano o un gatto chiuso in un'altra stanza allora non ci sono problemi se no sarebbe un po' rischioso perché il pitone di esempio il pitone o comunque gli altri serpenti possono anche andare a fare dei danni per questo ragazzi può essere tutto e iscrivetevi al canale ciao ragazzi ciao ciao